ciao a tutti bentornati sul mio canale dopo un po di tempo che mancavo oggi sono qui per parlarvi di prodotti che ho finito nell'ultimo periodo e per dirvi più o meno le mie impressioni e su una scala da 1 a 10 che voto do a questi prodotti ricordo che questo è un mio parere personale e i prodotti diciamo li ho testati su di me che ho pelle grassa tendente grassa mista e capelli grassi quindi vanno alle ciance e passiamo ai prodotti ora primo prodotto di cui vi voglio parlare che come potete vedere io adoro perché ne ho consumato già due scasolette la terza è quasi terminata sono i cerottini per punti neri della nivea questi cerottini io li trovo da idea bellezza li compro quando sono in offerta e li pago 4 e 90 mi pare di solito costano 6 e 90 ci sono nella confezione come potete vedere qui dal laterale 4 cerottini per il naso e 4 cerottini a triangolino per mento e fronte ma mi pare che questa cosa ve l'ho già detta in un precedente video comunque questi cerottini sono ottimi vanno bagnati va bagnato il naso poi vanno applicati i cerottini si lascia in posa per 10 minuti un quarto d'ora quando il cerottino si asciuga inizia a tirare si toglie via lentamente e i risultati si vedono quindi per me questi prodotti valgono 10 poi ho terminato finalmente questo shampoo di bottega verde che usavo da molto tempo shampoo al ginseng per capelli deboli e danneggiati e per lavaggi frequenti ho cambiato shampoo poiché ho notato che utilizzando sempre lo stesso prodotto il risultato che avevo all'inizio cioè la prima applicazione non era più lo stesso quindi ho capito che forse per i miei capelli è importante variare il prodotto di tanto in tanto e quindi ho preso un altro shampoo di cui magari vi parlerò quando avrò finito di utilizzarlo e che per il momento mi lascia molto soddisfatta il voto che do a questo shampoo è 7 perché mi è sempre piaciuto non mi lasciava i capelli troppo crespi e non mi rilasciava grassi però appunto come vi ho detto evidentemente i miei capelli hanno necessità di cambiare prodotto quindi andiamo avanti un altro prodotto che ho terminato sempre di bottega verde è questo balsamo keratine cashmere per capelli danneggiati e spenti che dona luce e protezione allora la prima volta che ho utilizzato questo prodotto mi è piaciuto un sacco ed ero tutta entusiasta però poi successivamente diciamo che il risultato non è stato più ottimo non è stato più buono come era all'inizio e quindi mi ha un po' deluso anche se comunque devo dire la verità non mi lasciava i capelli azze cosi o grassi quindi non lo posso bocciare però se devo dire che questo è un balsamo che ti comprerei domani non lo posso dire quindi il voto che do questo prodotto è 6 poi un altro prodotto sempre di bottega verde sono questi campioncini di crema piedi me ne hanno dati due quindi sono riuscita a utilizzarli utilizzarlo per più più tempo e posso confermare che mi sono trovata molto bene questa crema è una crema piedi idratante con olio di jojoba e mi sono trovata bene perché io soprattutto in estate mi sono accorta che ho bisogno di qualcosa che mi vada ad idratare i piedi perché tendono un po' a seccarsi quindi diciamo che per l'estate sicuramente penserò a comprarla il voto che do a questa crema piedi è 8 perché appunto l'ho trovata molto emolliente e molto profumata e si assorbiva subito poi un altro campioncino di bottega verde che ho provato e che mi è piaciuto è questo qui latte corpo alla rosa con acqua di bocciole di rosa allora a parte il profumo che era davvero bellissimo ma poi ha lasciato la pelle molto molto liscia e anche se non ha superato la mia fidatissima crema alla vaniglia nera quindi il voto che do a questo prodotto è 7 ma se dovessi comprarlo non lo farei insomma perché appunto la crema alla vaniglia nera che utilizzo di solito imbattibile per ora altro prodotto che ho finito e che ho temporaneamente messo da parte è questo bagnoschiuma appunto della linea di bottega verde alla vaniglia nera e l'ho utilizzato per tantissimo tempo però adesso l'ho cambiato e sto utilizzando uno al peperosa questo qui mi piaceva molto perché lasciava un bel profumo però se devo dire la verità ultimamente mi aveva anche un po' stancato dato che l'ho utilizzato da più di un anno e quindi ho deciso di sostituirlo con un odore diverso e il voto che do a questo bagnoschiuma non ricordo se l'ho già detto è 8 però diciamo insomma poi vi farò sapere con quell'altro come mi trovo altro prodotto è questo struccante sempre di bottega verde che sicuramente vi ho già recensito delicato per tutti i tipi di pelle già struccante viso e occhi allora questo struccante strucca benissimo però devo dire la verità all'inizio mi ci trovavo proprio bene infatti ne ho comprato anche una confezione più grande perché questa qui ovviamente la travel size però è un po' di tempo che mi fa bruciare gli occhi non so se è perché mi sono operata e quindi l'occhio è più sensibile però sto utilizzando per gli occhi uno struccante bifatico e questo qui lo sto lasciando per pulire le labbra e per pulire il viso quindi diciamo che per labbra e viso va benissimo però per gli occhi ultimamente mi sta dando problemi quindi purtroppo devo dargli come voto tra il 4 e il 5 altro prodotto di bottega verde che dovrebbe leggermi come so sponsor sono queste pillole integratori per capelli le ho usate tutte e due le scatolette e è un prodotto che avevo già utilizzato tempo fa e mi ci ero trovata davvero molto molto bene però devo dire la verità questa volta sarà forse il periodo di stress sarà non lo so magari sono stata io che non sono stata proprio costante nel prenderlo con una certa frequenza comunque non mi ha lasciata particolarmente soddisfatta i capelli non hanno avuto diciamo benefici mentre la prima volta che le ho prese i capelli mi erano cresciuti tantissimo infatti alla laurea avevo i capelli molto molto lunghi cioè molto lunghi diciamo per il mio standard erano molto lunghi comunque ogni confezione contiene 20 capsule e vanno prese due volte al giorno se le dovessi ricomprare non lo farei perché sinceramente come vi ho detto anche se sono diciamo con i semi di lino quindi olio di semi di lino quindi dovrebbe essere ottimo per i capelli non mi ha lasciato una buona impressione se devo dire la verità stavolta passerò a un altro tipo di integratori che sono quelli della msm long life di cui ho letto delle recensioni positive quindi poi vi farò sapere intanto a questi integratori come voto do 4 giusto perché la prima volta mi avevano lasciata contenta ma adesso ovviamente come vi ho detto no altro prodotto che vi avevo detto che stavo utilizzando è questa maschera per capelli della omia maschera capelli anticrespo all'aloe allora questa maschera mi lasciava i capelli molto morbidi infatti posso dire che tranquillamente va bene se avete i capelli crespi però dato che a me tendono anche ad essere grassi questa qui me li faceva sporcare non niente quindi ho deciso di dire addio alle maschere della omia che secondo me non fanno per me forse non lo so poi dipende magari dal periodo dell'anno però questa qui mi lasciava i capelli morbidissimi e lucenti però me li faceva sporcare troppo 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 velocemente quindi come voto le do 5 allora passiamo alle maschere che ho comprato in turchia allora ho comprato questa maschera in tessuto all'aloe e l'ho utilizzata nel periodo estivo e mi ha lasciato davvero contenta era idratante e profumata e non mi ha lasciato per niente la pelle appiccicosa quindi come voto le do 7 sempre della stessa marca ho preso questa maschera in tessuto alla bava di lumaca che diciamo almeno da come dice qui dovrebbe rigenerare le cellule della pelle e dare vitalità alla pelle delle persone diciamo di una certa età la pelle invecchiata ovviamente non è il mio caso perché sono ancora giovane però l'ho voluta provare perché mi piaceva l'idea di provare diciamo una maschera alla bava di lumaca allora devo dire che è idratante sicuramente quindi se avete una pelle secca oppure siete delle persone di una certa età va benissimo consigliatissima però non mi è piaciuta particolarmente perché questa qui era un po' più pesante di quella all'aloe e mi azzeccava la pelle un po' quindi come voto le do 6 perché è idratante ve l'ho detto però non posso dare di più proprio perché mi ha lasciato la pelle un po' appiccicosa allora altra maschera che ho preso sempre in turchia è questa qui della seven heaven una maschera ai fanghi del bar morto che era molto simile alle maschere all'argilla della l'oreal che utilizzo infatti questa maschera mi ha lasciato davvero molto molto contenta perché opacizzava la pelle e poi questa bustina qui non so se qui dice per quanto utilizzi è no non lo dice però sono 20 grammi ma mi è durata davvero tantissimo quindi costa poco e sinceramente se la ritrovo all'ovvies la ricompro e infatti dice per pelle per le pelli grasse quindi questa qui è perfetta per me e sicuramente la comprerò come voto le do 9 altra maschera in tessuto che ho comprato sempre in turchia è questa questa maschera in tessuto è una maschera a due fasi come potete vedere la parte di sopra era una specie di collagene che andava messo prima sulla pelle e la parte di sotto è la maschera in tessuto vera e propria alla bava di lumaca allora secondo me questa maschera è buona sicuramente perché ha la pelle secca 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 ma per me non è andata proprio bene mi ha lasciato la pelle appiccicosa non mi è piaciuta per niente quindi ha presa sempre in turchia è una maschera peel off dice che è con sali di mare devo dire che mi ci sono trovata molto bene erano due dosi infatti si vede che l'ho rotta sia sopra sia sotto e con queste due dosi ho fatto due volte il viso quindi è bastata giusto giusto per due volte era un peel off ma non tipo quelle maschere nere che si vedono su instagram era un peel off molto delicato quindi quando si andava a tirare non veniva via la pelle comunque mi lasciava la pelle liscia e opacizzata e mi è piaciuta un sacco se potessi la ricomprerei comunque come voto le do 9 allora altri due prodotti che sono due prodotti make up che ho finito da un po' di tempo ma che non avevo buttato ancora perché non lo so perché ogni tanto mi conservo le cose è questa matita della Kiko che è la numero 100 e in realtà non è proprio finita perché è ancora un po' lunghetta però mi dava bruciore agli occhi da un po' di tempo e non so perché continuavo a conservarla comunque penso che sia perché è scaduta era buona come matita devo dire però si scioglieva troppo facilmente quindi non mi è piaciuta più di tanto come voto le do 6 giusto perché era un bel nero scrivente però si scioglieva troppo diciamo che questa qui per un periodo l'ho utilizzata come base per fare lo smokey eyes però poi l'ho lasciata anche lì da sola perché non mi piaceva più e mi dava bruciore un altro prodotto che è l'ultimo è questo rossetto double touch della Kiko sempre dice che dovrebbe durare 10 ore ma non è per niente vero in teoria questa parte qui è una tinta e questa qui è tipo un gloss che si mette sopra lo sto buttando perché è scaduto ma anche perché praticamente questa parte qui non dura 10 ore è diventata azzeccosa questo qui è sempre stato azzeccoso quindi non l'ho mai messo questo è un prodotto che tengo già da molti anni quindi penso che sia venuto il momento di buttarlo anche perché mi pare che la scadenza si sono due anni di scadenza quindi lo posso buttare sono ampiamente passati due anni e come voto gli do 4 dunque per il momento è tutto appena finirò altri prodotti farò un nuovo video magari anche se ho un paio di idee per altri video futuri fatemi sapere se avete domande e sarò lieta di rispondervi o aiutarvi per qualsiasi cosa vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti